E allora ancora una volta abbiamo battuto il record non solo dei partecipanti complessivamente ma anche quelli partecipanti al CQM, al campionato italiano automoderne. Ma il vero record è la partecipazione oltre ogni aspettativa anno dopo anno a questa manifestazione. Se pensiamo che siamo in Sicilia quindi con mille difficoltà logistiche ma anche di sostenibilità di costi questo ci riempie ancora una volta di gioia. Ci sono tutti perché c'è Fagiole che proprio qui a Derice se quest'anno vincesse per la terza volta diventa campo di competizione per avere la laurea ufficiale di campionato italiano perché è una delle tre fasi finali. Quella nostra è con il massimo coefficiente quindi se lui vince a Erice matematicamente è campione italiano. Ancora una volta su Erice. Grazie a tutti. Grazie a tutti.